Scriviamo lei che è da Treviso da 15 anni, come mai hai scelto di venire qua? Un po' banale. Ah ok, come ho scelto? Ok, allora, io sono arrivato a Treviso per lavoro, come fanno tanti. E devo dire che quando mi hanno apposto di venire a lavorare a Treviso, io bene o male non sapevo neanche dove fosse il Treviso, per cui ho preso la macchina, ho proprio bisogno di vederla e le cose. Sono arrivato in città e sono rimasto ammirato della bellezza della città, ho pensato che è una bella dimensione, sono un ragazzo di campagna, sono nato in un paesino dell'Appennino e ho pensato che era bello fare un'esperienza, un'esperienza che ormai dura da 16 anni. Quindi sono rimasto perché ci sto benissimo, si vive bene, è una città che ha delle processità straordinarie, si sta cominciando ad esprimersi. Ci ho fatto tre figli, per cui i miei bambini sono nati qui e ho la fortuna comunque di essere foresto, per cui comunque vedi un pochino da fuori, uno guardo un po' distaccato rispetto a dinamiche cittadine. E come la vede? Treviso? Allora, quando sono arrivato era il 2001 e Treviso stava vivendo quelli che erano agli anni 80, quindi un po' in ritardo, aveva tutto questo entroiasmo, c'era un cantiere dentro a tutto, c'era il cantiere sulle mura, c'era il cantiere a piazza, quella che poi è diventata la piazza del quartiere latino, quindi si stava ripostruendo la città con un'entusiasmo, un'incoscienza che hanno un pochino lasciato il segno nel corso del tempo, perché poi una ricchezza arrivata così forte, una società cambiata così in fretta, io nel periodo in cui guardavo al supermancato dove erano prodotte le cose, dove erano prodotte a Treviso, mediamente, quello in cui c'era scritto, poi magari con un altro marchio. Quindi sono degli anni che hanno cambiato la società. Si è andati avanti, è cambiato un po' tutto, nel 2008 è cambiato il mondo perché c'è stata la crisi economica globale, anche Treviso è cambiata e sta cambiando. E sta cambiando in un modo che secondo me supporta quella crescita economica vertiginosa che c'è stata qua, ovvero sta arrivando la cultura. Siamo a Carta Carbone, quattro anni eccezionali di questo festival, è un successo che non neanche gli organizzatori si aspettassero. Ricordo bene quando è partita la prima edizione, quindi vedere le piazze piene, vedere la coda Santa Caterina per gli incontri, qualcosa di inatteso. Per cui se è quello che è successo in quegli anni 80 tardivi che era in 2000, contribuisce adesso alla crescita economica, alla bellezza che sta arrivando a diventare ricchezza, quel Treviso allora diventerà una delle più belle eccetera d'Italia, cosa che già è ma molti non lo sanno. È vero. Abbiamo detto anche che lei scrive gialli. Come mai questa scelta, visto che si è laureato in giurisprudenza? In giurisprudenza, faccio comunicazione e scrivo gialli. Scrivo gialli perché credo che sia un genere nobilissimo, giallo è un contenitore dove nel momento in cui tu rispetti delle regole basilari che sono quelle di metterci un omicidio, quindi che è un caso di partenza, un investigatore, un'indagine e una soluzione che nel giallo rassicura il lettore, quindi costruisci il contenitore e dentro ci puoi mettere qualsiasi cosa. Puoi raccontare delle cose leggerissime, delle storie di quattro vecchietti al bar che giocano a carta, come uno magari ricorderà, o delle storie molto pesanti, dei thriller, se esce ad esempio al cinema La ragazza della nebbia di Carrisi, che è un thriller vero, oppure L'uomo di neve, il nero, un altro thriller presente, sono sempre gialli, la costruzione è sempre gialli.